buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 19 agosto 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi di chi è il compleanno ebbene abbiamo un santo straniero un santo della normandia si chiama saint jean e fu un instancabile predicatore visse nel diciassettesimo secolo fondatore di ordini religiosi particolarmente devoto al sacco al cuore di gesù e di maria fu un grande predicatore dicevo diffuse il vangelo in diverse regioni dell'europa centrale e oggi è stato santificato e quindi è la sua festa san jean ed ora vediamo le previsioni del tempo passiamo dal sacro al profano vediamo che su tutte le marche permane il tempo stabile e solleggiato ovunque temperature in lieve aumento addirittura si oltrepassano i 30 gradi per quanto riguarda la massima alla minima si è attestata sui 20 gradi il clima è affoso in pianura specie lungo la costa venti deboli sulle coste da nord e nord ovest mentre nell'interno da nord il mare è leggermente mosso e allora diamo un'occhiata al mare dove vedi e dove incontriamo laura tamburini e concessionaria di mare mio di senigallia buongiorno laura e vediamo alle sue spalle un grande chiarore quindi vuol dire che la giornata si presenta soleggiata senta oggi è una giornata stupenda siamo alla termine della settimana agostana come è andata questa settimana che è un po il fulcro delle presenze balneari di tutta la regione questa settimana è stata una settimana di intenso lavoro perché la maggior parte delle persone stanno in ferie e si sono riversati abbondantemente sulle spiagge quindi abbiamo lavorato veramente bene questa settimana si dice che dopo ferragosto l'estate è praticamente finita c'è chi però lo smentisce e lei credo che sia una di queste è vero esattamente l'estate diciamo che ferragosto fino a ferragosto è la parte cruciale poi da ferragosto in poi comunque si sta benissimo al mare ci sono delle stagioni che fino alla fine di settembre comunque si riesce a venire al mare tranquillamente perché le giornate sono leggermente più corte però comunque il clima è bellissimo c'è anche meno gente che si sta anche bene sinceramente sì poi questa mattina anche noi venendo in redazione abbiamo assistito all'alba è veramente uno spettacolo bellissimo vedere sorgere il sole dal mare con dei riflessi tra l'arancione e il rosso veramente molto molto belli infatti stamattina quando sono arrivata c'erano dei ragazzi qui che hanno fatto l'alba e adesso stanno dormendo sui lettini si stanno riposando signora ci dica qual è la composizione della sua clientela è più portata verso i ragazzi verso i giovani o verso le famiglie con bambini allora principalmente la clientela è di una mezza età diciamo intorno ai 50 anni famigliole con ragazzi o anche meno anche più giovani poi ci sono dei gruppi di ragazzi che vengono in questo periodo in questo periodo ci abbiamo anche gruppi di ragazzi anche dall'estero che vengono abbiamo diversi spagnoli olandesi mentre gli stagionali sono più di una media età insomma benissimo quindi c'è una composizione molto varia ma in conclusione le chiedo in conclusione le chiedo perché un vacanziero un turista dovrebbe venire a sanigà a senigallia per passare le vacanze allora senigallia dovrebbe venire secondo me la famiglia o la persona che cerca la tranquillità perché è una città che comunque offre perché in centro ci sono diverse attività corali anche sul lungomare ci sono diversi locali aperti noi fanno anche musica però diciamo non c'è quel caos enorme delle grandi città quindi si può tranquillamente leggere un libro sotto l'ombrellone e stare tranquillamente sereni insomma senza aver troppa confusione intorno benissimo allora senigallia rimane sempre alla spiaggia di velluto una perla della costa marchigiana noi la ringraziamo e le auguriamo una buona continuazione di stagione perché la destagionalizzazione è veramente uno degli obiettivi più importanti di tutti i nostri operatori turistici turistici grazie laura così una cosa se è possibile siccome è una cliente che da anni vi segue giornalmente volevo farle un saluto a ilona e alla signora coppi che ci seguono vi seguono sempre costantemente benissimo e salutiamo anche noi e li annoveriamo tra i fedeli di fano tv grazie sicuramente sicuramente grazie e buona continuazione buona giornata a voi grazie e noi apriamo i giornali oggi abbiamo la prima pagina del corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo come si parli un po' del dopo estate dell'autunno quando riprende in pieno l'attività amministrativa e avranno inizio avrà inizio l'esecuzione dei grandi progetti quelli che sono un po' l'obiettivo di tutta la tornata amministrativa della giunta seri e vediamo i titoli che appaiono sul giornale ex agip waterfront giochi fatti il comune ha individuato le ditte l'arredo dell'ex jabbi ex agip questa piccola area che fa un po' da spartiacque del traffico che arriva a fano un po' dall'autostrada un po' invece dalla statale 16 costituisce un punto focale per quanto riguarda anche un punto focale di discussione per quanto riguarda il futuro di questa area il comune ha deciso ne farà un'area di rappresentanza un'area di sosta arredata in modo particolare con un monumento significativo la cui esecuzione partirà proprio nel mese di settembre e poi abbiamo i due waterfront ovvero quello di Sassonia e quello di Torrette che daranno un nuovo volto a tutto il lungomare e invece rimane un po' al palo al momento l'arredo di piazza Andrea Costa mentre procede quello di piazza Marcolini dove i lavori sono in avanzata fase di esecuzione e poi a fondo pagina si parla di un obiettivo che è in atto da diverso tempo quello della ricostruzione dell'ex Carducci l'edificio che è stato dichiarato inagibile a causa delle sue precarie condizioni di stabilità deve essere demolito e deve essere ricostruito e nel frattempo 500 studenti dovranno intraprendere anche il nuovo anno scolastico nella ex sede delle Battisti e non sarà diverso dagli anni scorsi un po' questa frammentazione degli istituti per quanto riguarda gli studenti dell'ex Carducci in modo particolare quelli che osservano l'indirizzo di studi di carattere pedagogico ebbene in questo caso abbiamo un intervento di Stefano Polegioni dell'Udc che oltre a interessarsi dell'ordine pubblico si interessa anche della sorte della ricostruzione dell'ex Carducci ricostruzione che dipende molto dal governo che ha tardato per quanto riguarda tutti i suoi percorsi burocratici a rilasciare i finanziamenti dipende un po' dalla provincia per quanto riguarda i progetti e dal comune per quanto riguarda gli stimoli che il sindaco dovrebbe dare a chi di dovere per realizzare al più presto l'ex Carducci nuovo ma credo che ci verranno ancora alcuni anni la fiera in zona mare è lontana dal centro trova però la soddisfazione delle associazioni di categoria c'erano dei mugugni che si erano sollevati nel centro storico di Fano in merito a questa permanenza della fiera di San Bartolomeo che è un grosso centro di attrazione in zona mare in realtà sia la Conf Commercio che la Conf Esercenti hanno un giudizio positivo per la conferma che l'amministrazione comunale ha dato per la location di questo grosso evento promozionale che poi si svolgerà anche al Lido quindi un canale diretto tra il Lido, il centro storico e la Sassonia Marcolini e Mirisola, i due rappresentanti e lei presidente della Conf Commercio lui vicepresidente della Conf Esercenti rassicurano gli iscritti sull'equilibrio della scelta per San Bartolomeo ebbene d'estate è bene privilegiare anche la zona mare rispetto al centro storico mentre d'inverno ovviamente la zona mare viene un po' lasciata in disparte perché poi le condizioni ambientali non permettono di realizzare eventi di grande importanza e c'è veramente il grande successo da rilevare del paese dei Balocchi questa bellissima manifestazione che per quattro giorni si sta svolgendo in piazza bambini del mondo a Bellocchi dove si allestisce veramente un mondo da favola il mattatore di questo mondo è stato nella prima giornata Pino Insegno, il nuovo sindaco del paese dei Balocchi è stato un grande affabulatore sul palco intervistato da Davide Cecchini alla presenza del sindaco Massimo Seri e del presidente dell'associazione organizzatrice di tutto l'evento Michele Brocchini ebbene si è raccontato si è raccontato per quanto riguarda la sua carriera il suo ruolo di attore, di doppiatore, di conduttore televisivo in modo molto ironico, in modo molto piacevole tanto da divertire, da mettere in scena un vero e proprio spettacolo ed è stato veramente una scelta oculata quella di aver individuato Pino Insegno come nuovo sindaco del paese dei Balocchi il paese dei bambini il mattatore conquista tutti in titola il Corriere Adriatico sulla pagina della Valmetau ed ora diamo voce invece a chi protesta Antenna vicino al cimitero il Tar dà il via libera a Iliad non è affatto contento il sindaco di Mondolfo per questa decisione che è scaturita dal Tar a cui Iliad aveva fatto ricorso per il diniego del comune dirigere un'antenna nei pressi del cimitero il Tar ha dato ragione alla società che si propone di realizzare questa struttura una struttura che ovviamente non piace ai residenti ma la legge consente appunto a questi operatori di instaurare le loro strutture nei punti dove loro considerano più opportuni e non c'è niente da fare e ora si sta un po' meditando se ricorrere al Consiglio di Stato oppure di lasciar perdere e di consentire a Iliad di realizzare questa nuova antenna un incidente è accaduto al ciclista Giovanni Carboni nei pressi di San Marino è caduto durante l'allenamento è caduto perché l'asfalto era crepato la ruota della bicicletta anteriore è incappata in una di queste incrinature e il ciclista è caduto ha battuto la testa ed è anche svenuto asfalto spaccato la bici che finisce dentro brutta caduta e duro colpo alla testa per Giovanni Carboni ciclista di San Costanzo a San Marino durante l'allenamento di ieri per fortuna sembra che la situazione non sia grave e Carboni si sta rimettendo veniamo alla pagina di Senigallia a Senigallia arriva la fiera campionaria al Bianchelli allo stadio viaggio tra padiglioni su 3.000 metri quadrati è una fiera che interessa precisi settori di interesse industriale si tratta di 900 metri quadrati con singoli gazebo degli espositori di eccellenza si tratta di settori quali l'edilizia l'impiantistica con brandi importanti degli infissi dei pavimenti e tutte le novità riguardanti i settori come i condizionatori particolarmente di stagione emergenti in questo periodo e la sempre innovativa domotica ecco chi vuole costruire chi vuole aridare una nuova casa certamente frequenterà questa nuova iniziativa di Senigallia apriamo il giornale anche sulla pagina regionale dove si parla diffusamente di pesca perché il caro gasoglio continua a farsi sentire per le imbarcazioni che frequentano i nostri mari caro gasoglio e veti dell'Unione Europea come quelli della fine della pesca a strascico pone la pesca in cattive acque così dice il Corriere Adriatico carburanti è arrivato a 90 centesimi un salasso da 15.000 euro al mese e non è poco e poi c'è questo problema dei granchi blu pochi e destinati in padella i pescatori per fortuna non sono in allarme nel nostro territorio come invece lo sono altri che operano in altre zone marittime il professore Danovaro che è uno studioso dice il vero predatore non è il granchio ma è l'uomo e forse c'è uno sforzo eccessivo di pesca che sta demolendo un po' tutte le strutture tutta la situazione ambientale dei nostri mari ed ora diamo un'occhiata a questo articolo perché vediamo come una ragazzina ha avuto la meglio sui rapinatori che effettuano furti nei nostri appartamenti una piccola detective di 12 anni fa arrestare il ladro in casa lo racconterò in un tema ha dichiarato ebbene vediamo come il Corriere mette in evidenza due episodi uno è accaduto il 16 agosto il giorno dopo di Ferragosto in Ancona nella zona Pietra alla Croce una ragazzina di 12 anni si è accorta che un estraneo è entrato in casa per rubare allora cosa ha fatto non si è persa d'animo prima si è sincerata che i nonni che abitavano al piano di sotto fossero al sicuro poi è entrata in bagno si è chiusa a chiave ha telefonato al 112 e ha dato l'allarme la polizia si è precipitata e pensate è riuscita ad arrestare il ladro si tratta di un Chiara Vallese di 50 anni che aveva già intascato dei gioielli in precedenza il 12 agosto intorno alle 23 e 30 erano le 11 e mezza di sera a Potenza Picena in provincia di Macerata una turista lombarda di 18 anni in vacanza sola in casa si stava preparando per uscire ha sentito dei rumori in un'altra stanza va a vedere e si è trovata davanti a un ladro l'intruso è un 21enne albanese il quale tenta la fuga ma nel frattempo la ragazza aveva avvertito i vicini il suo papà è chiamato il 112 e il rientro del padre ha impedito la fuga del ladro e che è stato arrestato dai carabinieri ecco come due persone sono riuscite ad avere la meglio per i ladri ma fate attenzione non eccedete le vostre possibilità perché poi i ladri possono reagire veramente in maniera in consulta vediamo anche alcune altre notizie sul Corriere Adriatico in merito a Pesaro vediamo come il ROF questo insieme di grandi opere che si svolge prevalentemente al Vitrifrigo Arena lascia un po' con l'amaro in bocca il centro storico perché senza l'attrazione del ROF il centro storico ne risente sì ci sono i concerti che si fanno all'auditorium Pedrotti ma non è la stessa cosa che allestire le grandi opere che vengono spostate in periferia alla Vitifrigo Arena centro orfano del Belcanto e il commercio ne risente senza teatro dice siamo penalizzati e prima di concludere l'esame del Corriere Adriatico voglio segnalarvi questo articolo che riguarda la situazione ospedaliera muraglia un trasloco non semplice tuteleremo pazienti e personale lo ha dichiarato Edoado Berselli titolare dell'Aste dell'azienda sanitaria territoriale il quale rassicura sullo spostamento di reparti e della cittadella psichiatrica certo è che non è facile trasferire tutti i reparti dell'ospedale di Muraglia nella situazione di risulta in attesa che venga realizzato il nuovo ospedale e poi vediamo che a Villa Fastigi nel carcere migliora la situazione grazie all'arrivo di una nuova dirigente che apre ai percorsi di lavoro in programma parrucchieria giardinaggio e anche cucina i volontari presentano un progetto ed è stato un cambiamento pensate radicale perché è poca cosa ma è radicale quello di incontrare una detenuta chiamarla per nome e avere rispetto della sua personalità anche questo vuol dire una condizione umana della pena vediamo ora il resto del Carlino il resto del Carlino apre con il problema dei parcheggi a Fano stop alla sosta gratis e il Comune paga fino adesso parcheggiare nell'area di risulta dell'ex Vittoria al Lido di Fano non costava nulla al Comune ma ora dopo tanti anni i proprietari hanno deciso di rivalersi ebbene il Comune pagherà quest'anno 25.000 euro per dare la possibilità ai turisti e ai fanesi di parcheggiare in quel piccolo spazio dell'ex Vittoria è l'unico spazio disponibile è molto molto prezioso è piccolo è vero ma almeno è qualcosa nelle vicinanze della spiaggia bene 25.000 euro la somma chiesta dalla ditta proprietaria alle aree di Lido e Ponte Sasso prezzo inconguro ma non c'erano alternative e poi vediamo come il fanese Luigi Scopelliti consigliere comunale della Lega è diventato consigliere provinciale è diventato anche consigliere provinciale al posto di Roberto Biagiotti che è purtroppo deceduto in giovane età ha occupato il suo posto nello scranno in consiglio provinciale lì tra associazioni volano gli stracci ancora che reltra confcommercio e confesercenti per quanto riguarda i giudizi espressi sull'evento sulla manifestazione birra d'augusto dura replica oggi di Amerigo Varotti contro Mirisola e confesercenti appunto sulla birra di augusto vediamo anche quello che accade a Mondolfo dove l'antenna al cimitero ha destato proteste vi abbiamo raccontato come il Tar che si è pronunciato ha detto sì a favore di Iliad e quindi il sindaco è costretto appunto a cedere alle richieste di questo operatore telefonico a meno che non si decida di ricorrere al consiglio di stato terre roveresche la vacanza a piagge finisce in caserma per sei giovani turisti molesti sono tutti residenti in Veneto a Padova e hanno tra i 16 e i 18 anni anticipato anche il rientro sono dovuti intervenire i carabinieri di terre roveresche per richiamare all'ordine un gruppo di giovani appunto tra i 16 e i 18 anni in vacanza a piagge che dopo l'azione dei militari avevano deciso di anticipare il loro rientro nella città di provenienza nel nord Italia giovedì mattina i carabinieri hanno effettuato un controllo da una fitacamere che ospitava i ragazzi che secondo alcune segnalazioni stavano tenendo un comportamento un po' sopra le righe insomma erano protagonisti di bravate e ora se ne ritornano nella loro località a Urbino nasce una nuova area per ragazzi la segnala il consigliere comunale Laura Scalbi si trova nei pressi del monumento a Raffaello in cima al colle l'inaugurazione sarà a settimane la zona appunto sarà allestita con diversi giochi per la fascia dai 3 ai 6 anni un parchetto con dei giochi per fare così intrattenere e divertire i ragazzi di Urbino è ora di pulire i torrenti nell'entroterra anzi è già tardi lo segnala Massimiliano Sirotti che è presidente del consiglio comunale di Urbino il quale scrive al consorzio di bonifica se torna la pioggia si rischia il disastro e questo un po' in tutto il territorio tenere puliti i fossi e i torrenti è una delle precauzioni maggiore per evitare disastri che purtroppo in passato non sono mancati facciamo appalti per 1.700.000 euro si tratta di Fossombrone lo evidenzia il vice sindaco Michele Chiarabelli a Fossombrone sono in corso grandi recuperi e restauri è veramente congrua è appunto piuttosto ingente la somma che verrà investita tra investimenti pubblici e privati per un cantiere che rende Fossombrone a cielo aperto siamo vicini alla conclusione vediamo qualche notizia che riguarda Pesaro anzi passiamo a Cagli ma sulla pagina di Pesaro abbiamo che a Cagli un po' si aggiusta quel grande problema dell'autovelox sulla strada Flaminia a Cagli Cagli cambia il modello sostituito quello da 3,15 milioni a Cosenza è stato sequestrato sembra che ci siano dubbi sulla regolarità della installazione di questo autovelox che veramente ha fatto strage di multe per quanto riguarda gli automobilisti che ora vede un po' un problema di carattere amministrativo all'interno del Comune e vedremo come andrà a finire insomma chi ha avuto una multa magari c'ha un varlume di speranza di non doverla pagare oppure di vedere risarcire il proprio esborso risarcito il proprio esborso Vandali in spiaggia purtroppo ancora questi atti inqualificabili tagliati più di 40 lettini i bagnini allargano le braccia e dicono inconcepibile indagano i carabinieri qualcuno armato di coltello ha colpito nella notte i più danneggiati sono gli bagni Ridolfi e Tino si fa del male a chi lavora purtroppo questa è la sconsolata ammissione e con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa abbiamo terminato le notizie del giorno l'appuntamento è per le 7 di lunedì prossimo e intanto vi auguro un buon weekend grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci